ti vuoi coglione gazzò sulla mia moto ce lo vedo male bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono Agno e oggi sono sulla moto di pazzo mi sono gazzato un attimo allora sono sulla moto di pazzo perché domani gli scade l'assicurazione e quindi ho deciso di provarla assolutamente è stupendo cioè voi sentite il sound cazzo è strano ragazzi mi sento tutto corricato in avanti cazzo mica però non ci sono segnate le marce che palle madonna mi sto prendendo la mano è fantastica è 11.77 è 11.000 grande madonna ragazzi è una figata pazzesca sta moto aspetta come si fanno qua le curve eeeh eeeh di apposso l'unica faccia raga cioè è veramente il top raga bisogna prenderci la mano guardate che bella la mia bettina vai vai grazie a tutti grazie a volte grazie a tutti grazie a tutti giocare grazie a tutti Grazie a tutti madonna alle lorde che non tira testa di cazzo di op... madonna madonna senti che rumore che cazzo di rotonda strana ma che cazzo... madonna... il problema è che facendo viaggi lunghi dopo un po' ti viene male al gomito non c'è niente da fare perché sei tutto col peso sul manubrio in avanti e quindi... quindi zipra ma cosa cazzo sto... non c'è niente... Scusate, volevo fare il figlio e è andata male. Questa è il carmo di qua. Si scassa lui, ma la testa di senso è il cazzo. Ti scassi eh? In definitiva raga è stupenda, c'è niente da dire. Se il video è piaciuto scrivetevi e vi vediamo nel prossimo video. Bella.